la domanda vuoi guarire prova a sentire la rivolta a te cosa vuol dire vuoi guarire da cosa vuoi guarire perché il centro del brano del vangelo è il prendere la parella su cui si giaceva e il camminare l'andare un uomo è veramente uomo quando è libero di camminare non solo fisicamente in questi giorni ce ne accorgiamo ma in quanto è libero di camminare interiormente ma vuoi guarire allora devi prendere ciò su cui normalmente giaci stai sei bloccato la nostra condizione ha bisogno di essere in questo veramente risonata siamo chiamati ad essere vivi a camminare ma la libertà interiore questa dipende dal fatto che tu non giaci più nella vita hai scoperto chi ti ama ti rende libero allora decidi di fare come lui e camminare senti la chiamata a diventare come lui si cammina quando si è capaci di amare di mettersi veramente in gioco di portare forse questa può essere una preghiera da fare oggi il tempo in cui speriamo di essere risanati e di guarire dal coronavirus ma di saperci anche rialzare da un virus ben più pericoloso il vivere senza futuro il vivere semplicemente in questo mondo giacere in questo mondo sopravvivere a tutto quello che succede in questo mondo ma senza la prospettiva dell'essere un dono un cammino una comunione fondi